Buonasera a tutti. A causa dell'emergenza coronavirus, ormai le nostre attività sono chiuse dal 12 marzo. Una vita, se pensiamo a come eravamo abituati, ad essere sempre in contatto con i nostri clienti. Oggi tutti stiamo soffrendo per i disagi causati da questa pandemia e siamo preoccupati per la nostra salute. Ma siamo preoccupati anche per le nostre imprese e per il futuro che ci aspetta. In questo momento non possiamo che aspettare e prepararci per quando riapriremo. La nostra categoria del benessere è fatta di persone brillanti, creative e grintose, pronte a mettersi in gioco anche dopo uno tsunami di questa portata. E anche se siamo presi da mille dubbi e da mille interrogativi, in questo momento c'è però chi lavora per noi. A livello nazionale stiamo lavorando con la Presidente e i colleghi del Direttivo, un gruppo che nonostante le distanze riesce sempre a collaborare con passione e determinazione. E colgo anche l'occasione per ringraziarli tutti di cuore. Il lavoro che noi svolgiamo è quello di presentare proposte e richieste specifiche per la nostra categoria, che ci saranno utili al momento, e speriamo presto, della riapertura delle nostre attività. Vorrei fare un appello a tutti. Non rivolgetevi agli operatori del benessere a domicilio. Ora più che mai è pericoloso per la vostra salute e per quella di chi vi circonda, rischiando così di far diffondere il coronavirus. Stiamo rinunciando a tante cose in questo periodo che fanno parte della nostra vita e possiamo aspettare che riaprano i saloni per prendersi cura della nostra persona. Vi aspettano professionisti carichi di idee e di passione, che in questo periodo non hanno di certo mollato la presa, seguendo corsi di formazione online e documentandosi. Inoltre, per accogliervi al meglio, quando rientreremo, troverete ambienti adeguati e sicuri rispettando le disposizioni del governo. La nostra associazione con Fartigianato non ha mai smesso, specialmente in questo momento, di esserci vicina a livello locale, continuando a informarci in tempo reale e con ogni mezzo sulle nuove disposizioni e sui nuovi adempimenti, con la frequenza che il governo emana. Sempre dovremmo capirlo e apprezzarlo, ma forse ora più che mai tutti scopriamo l'importanza di far parte di una grande associazione che lavora e ci supporta nelle nostre attività. Una dimostrazione, per esempio, la richiesta del bonus dei 600 euro. Voi tutti avrete visto le difficoltà che ci sono già nel richiedere il PIN all'Inps. Fartigianato ha istituito un servizio gratuito per fare la richiesta per il nostro conto. Questo è un importante segnale di vicinanza verso i nuovi imprenditori. Come associati e come dirigenti di categoria, in questo momento non posso che fare complimenti a tutto lo staff di Fartigianato Prato perché non hanno smesso un minuto di seguirci e di informarci e di sicuro non ci fanno sentire abbandonati. Per concludere, seguite la nostra associazione, Iscrivetevi al canale Confartigianato Prato su Telegram scaricabile su tutte le piazzaforme Android e Apple. Sarete aggiornati su tutto quello che c'è da sapere per superare questo momento difficile. Un abbraccio a tutti, amici e colleghi e pronti per la ripartenza!